Antonio Vutov, benvenuto a Lecce, una bella esperienza, lo sai che prima di te dall'Udinese che ha percorso la stessa strada sono arrivati due come Muriel e Quadrado? Sì, lo so, sono seguito questi due grandi fattori. Magari ripercorre le stesse orme? Eh, vediamo. Spiega un pochettino ai tifosi giallorossi chi sei e come giochi? Io sono Antonio Vutov, nato in Bulgaria, gioco come esterno, tecortista, attaccante anche, ma lo sono dentro in campo. Che tipo di giocatore ti ispiri o ti paragoni magari per un domani? Tipo giocatore segue? Un giocatore strano ti fare diversi rovin al campo. Un nome di un giocatore famoso in Serie A di Champions League? Non lo so, sono tanti in Serie A, ma penso che mi piace un giocatore come Candreva e un altro come Insigua. Quindi ci dobbiamo aspettare dribbling, serpentine e tanti assist da te? Sì, aspettiamo, vediamo. Come ti sembra questo ritiro? Bene, un po' perfetto. Ci vediamo una fine. Grazie.